Se avete già programmato una gita fuori porta per mercoledì 1 maggio, non dimenticate di dare uno sguardo alle previsioni meteo, perché la longitudine e la latitudine che sceglierete potrebbero costarvi la gognata scampagnata. Portare un ombrella e un QA insieme al pranzo al sacco vi metterà sicuramente al riparo dalle possibili piogge, ma per essere certi di un tempo più clemente sarà meglio optare per la costa, come suggeriscono le previsioni meteo del nostro esperto Giovanni De Palma. Per questo 1 maggio che tempo ci sarà? Si potrà pensare, ipotizzare di fare una vacanza, anche un ponte lungo con tanto di scampagnata all'aperto? Certo non è un periodo favorevole dal punto di vista meteorologico perché siamo interessati da condizioni di instabilità che porteranno soprattutto nel pomeriggio sera dei rovesci e dei temporali, in particolar modo sul settore occidentale, sulla Marsica e nell'Aquilano, mentre al mattino comunque la giornata sembra tenere abbastanza bene, soprattutto lungo la fascia costiera e sulle zone colinari prossime alla costa non dovrebbero esserci problemi, dovrebbe splendere il sole che però andrà via poi nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio perché aumenterà la probabilità di rovesci e di temporali, soprattutto sul settore occidentale, ripeto, e sulle zone montuose. Agli appassionati del mare quando è che potranno rispolverare i costumi, visto che comunque questo tempo sembra essere molto instabile, molto ballerino? Eh sì, purtroppo c'è da aspettare perché le temperature, c'è da attendere ancora perché le temperature sono comunque previste in diminuzione, l'aria fredda che sta giungendo dall'Europa centrale, ripeto, manterra attiva e condizioni di instabilità anche nei prossimi giorni e le temperature comunque che sono in linea con le medie stagionali ma al mattino e durante le ore serali comunque fa piuttosto freddo. E per i prossimi giorni invece, senza pensare troppo in là, parlando già di estate, insomma, la prossima settimana cosa si prevede? Ma dobbiamo purtroppo ipotizzare ancora l'arrivo di masse d'aria fredda dall'Europa settentrionale perché gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici mostrano pronto una tendenza verso l'arrivo di condizioni di instabilità provocate da masse d'aria fredda provenienti dal nord Europa che se confermate comunque favoriranno un deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche anche nel corso della prossima settimana. È presto per saperlo adesso, ci torneremo su nei prossimi aggiornamenti.